Cari amici, questa mattina una virologa cinese che è fuggita negli Stati Uniti ha rilasciato un'intervista al quotidiano La Verità dove ha fatto delle dichiarazioni pesantissime a questo proposito leggiamo insieme senza commentare l'articolo pubblicato dall'agenzia di stampa ADN Kronos virologa cinese fuggita in USA, il virus è artificiale ci troviamo davanti non a un virus derivato da un patogeno naturale ma ad un virus artificiale elaborato e rilasciato dal Wuhan Institute of Virology un laboratorio di massima sicurezza che è posto sotto il controllo del partito comunista cinese lo dice a La Verità Lim Meng Yan, virologa, prima firmataria del rapporto Yan un paper di 26 pagine sul coronavirus convinta che si sia creato un virus letale al fine di diffonderlo senza poter risalire agli autori la virologa afferma di aver iniziato le ricerche sul covid-19 il 31 dicembre scorso prima che il 7 gennaio le autorità cinesi dessero l'annuncio ufficiale del primo caso accertato che addirittura risale al 16 novembre è precisa che svolgeva le sue ricerche nel laboratorio dell'organizzazione mondiale della sanità presso l'università di Hong Kong ha lavorato fino alla primavera nel dipartimento di salute pubblica della Hong Kong University ora è a New York, vive sotto la protezione del governo degli Stati Uniti nessuno dice la verità il governo cinese, l'OMS, il mondo scientifico afferma ho studiato il genoma del SARS-CoV-2 e quel corredo cellulare non esiste in natura è molto simile a un virus in possesso di un laboratorio di ricerca militare un SARS-like CoV isolato anni fa chiamato ZC45-ZXC21 nel mio paper spiego in modo dettagliato la procedura seguita dal Wuhan Institute of Virology per modificare tale coronavirus alcune parti sono state aggiunte, scambiate, modificate con l'obiettivo di farlo sembrare un virus nuovo la regione del virus che caratterizza l'infezione del SARS-CoV-2 chiamata RBM assomiglia molto a quella del virus SARS-CoV-1 responsabile dell'epidemia di SARS nel 2003 infine una proteina di SARS-CoV-2 chiamata Spike esiste in un sito di taglio per la furina che manca in tutti gli altri coronavirus simili a questo e afferma questa caratteristica del nuovo coronavirus induce a pensare che il Covid-19 non sia naturale ma sia stato creato artificialmente ma c'è dell'altro le tecniche usate per creare il Covid-19 erano state impiegate fin dal 2008 da un gruppo di ricerca coordinato dalla dottoressa Zhengli Shi del laboratorio di Wuhan e il fatto che la stessa regione RBM sia stata modificata dalla dottoressa Shi e dai suoi collaboratori è la pistola fumante la prova che il SARS-CoV-2 è il prodotto di una manipolazione genetica e dai suoi collaboratori